Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. Da Annone, in Brianza, presso End, attrezzature, cucine industriali, con la D, il dottor Marco Oppio. La mission della vostra azienda. Io ho iniziato a fare questo lavoro circa 30 anni fa, ho sempre fatto questo lavoro. Vengo da un'esperienza innanzitutto tecnica, dopo che si è evoluta fino ad oggi che facciamo progettazione di impianti. Il nostro scopo è quello di parlare con il cliente, col cuoco, col titolare, per vedere le esigenze, perché in ogni cucina le esigenze sono diverse l'una dall'altra. E realizziamo un progetto specifico, su misura, adatto alle esigenze sia del cuoco che anche alle richieste che può avere il titolare. Valutiamo sempre di utilizzare la massima tecnologia che c'è oggi sul mercato, quindi i migliori prodotti con le migliori rese e questo ci permette di essere sempre all'avanguardia con gli ultimi prodotti che ci sono attualmente sul mercato. Le esigenze di questi chef, siccome le vediamo ormai in televisione, sono delle star? Le esigenze sono tantissime. Mi è capitato recentemente di fare un progetto dove si sono susseguiti tre chef, perché prima volevano prendere uno, poi l'altro. Abbiamo fatto tre progetti diversi, ognuno il suo metodo, difficilmente riescono a cambiare metodologia. In alcuni casi riusciamo, perché gli giustifichiamo la facilità di lavoro, quindi riusciamo a individuare proprio quello che lui potrebbe accettare come compromesso, ma questo per fargli capire che potrebbero lavorare molto meglio. Quindi la sfida è proprio quella, capire cos'è in mente il cuoco. Il cuoco ha dei punti fermi che non si possono cambiare, quindi prima di fare un progetto è un interrogatorio che devo fare al cuoco per capire come lavora il suo procedimento. Poi gli chiedo se posso utilizzare altri sistemi e il cuoco decide se gli posso mandare bene oppure no. Voi fate progetti anche per i pastri chef? Sì, in alcuni casi sì. Quando si parla di discorso dolciario si va alla perfezione? La pasticceria non è la cucina. Io definisco il pasticciere il farmacista della cucina perché lavorano col grammo, col peso. Il cuoco può anche un po' improvvisare o metterci un po' più del suo. Il pasticciere ha delle regole che deve seguire. C'è un portale, un sito, qualche discorso social dove vedere la vostra realtà? Abbiamo sia un sito che è andattrezzature.it, abbiamo anche Facebook, anche questo con andattrezzature come nome, dove ogni tanto riportiamo anche sul sito qualche nostra realizzazione che facciamo. Da Annone Brianza con Marco Oppio, a voi regia.